Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale come vedete oggi vi mostro la mia make up collection chi mi segue sull'altro canale già avrà visto la make up collection che ho che ovviamente non è grande come quella di Clio Makeup o di tutte quelle più di Guru ma è abbastanza grande ho tutte le cose che ho comprato nel corso degli anni e che uso è un video che mi viene richiesto molto spesso partiamo da questa che è la mia cassettiera come vedete qui in alto ho un quadro di Marilyn lì ho messo un cuoricino questa è una cassettiera marrone ed è di Ikea però è di tanti 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 anni fa quindi non so se la trovate ancora ma sicuramente troverete qualcosa di simile parto con farvi vedere questi due scomparti anzi questi due porta pennelli qui ho messo dei pennelli per occhi e viso e anche qui ci sono dei pennelli per viso troviamo tutti i rossetti della MAC diciamo che questi sono solo una parte perché poi ce ne sono ancora altri come vedete ci sono delle scatole della Mulac però sono vuote mi piacciono perché sono molto belle quindi le tengo lì lì ci sono vari rossetti uno è di Fenty Beauty e un altro è di Dior poi abbiamo varie cosette carine sono tutti i rossetti della Wet n Wild che mi piacciono di più poi qui troviamo rossetti della Mulac cose di Sephora tinte di NYX che io uso comunque qua maggiormente ci sono un sacco di rossetti della Mulac tinte varie che mi piacciono di più come vedete poi lì scusate la polvere ma si rifà ogni volta quindi è una cosa incredibile lì ci sono delle palettine che mi piacciono e magari utilizzo di più e andiamo ad aprire il primo cassetto troviamo vari mascara diciamo che io uso più spesso che mi piacciono di più poi qua ci sono vari campioncini e altre mascara che questi devo dare alle mie sorelle infatti adesso li togliamo da qui e li metteremo qua sopra uno dei correttori e tutte cose per la base vedete io comunque comunque ho finito un sacco di correttori là ci sono vari fondotinta poi qui abbiamo sia mascara tanti mascara che eyeliner qui abbiamo vari accessori per il make up quindi abbiamo delle pinzette temperini e piccaciglie poi qua anche abbiamo vari accessori quindi abbiamo cose per sovraggiglia abbiamo basi e primer qui invece abbiamo delle palette che io utilizzo più spesso quindi qui abbiamo varie palette tipo del lato faced di mulac queste sono tutte palette tipo per il viso e per occhi che a me piacciono di più qui anche abbiamo varie palette che magari mi piacciono di più e che utilizzo spesso vedete tipo alcune del lato faced alcune di mulac alcune di two faced alcune urban decay cut 1d comunque ce ne sono davvero tante diciamo che questo è il reparto che io uso maggiormente poi scendendo verso il secondo cassetto troviamo un sacco di rossetti qui praticamente li ho divisi voi li vedete così ma prima erano un sacco un sacco di più allora qui praticamente ci sono i rossetti che magari mi piacciono di più in questa grande cesta ci sono dei rossetti che mi piacciono di più e che uso maggiormente e quindi io a volte li metto qui e quando mi va di pescarli vengo qui e li pesco qua invece ci sono quelli che io uso di meno quindi tutti quei rossetti che io uso meno li metto in questo reparto qui qui ci sono vari rossetti di ci sono vari rossetti di Kiko e della mulac che magari uso meno qui ci sono varie ditte tipo di We Makeup NYX Avon Makeup Revolution comunque queste cose diciamo che sono cose che uso molto molto poco e già ho fatto un bel decluttering qui dentro poi in questo cassetto qui come vedete abbiamo varie cosettine lì dietro ci sono delle box tipo troviamo delle scatole vuote poi ci sono delle lentine a contatto colorate qua invece ci sono vari campioncini ancora nuovi questa in questa scatolina metto dei campioncini ancora nuovi qui ci sono varie matite sia colorate sia nere che però magari non uso molto spesso allora le tengo in questo reparto questa invece è una delle mie prime palette anzi la mia prima palette di tanti colori quindi la tengo qui per ricordo in questo scomparto ho un bicchierino che sarebbe praticamente un illuminante di mulac che si è rotto però io continuo a tenerlo qua perché lo voglio usare e portare a termine e qui invece ci sono varie matite labbra che mi piacciono che però uso di meno qui ci sono vari ombretti mono e qui ci sono vari ombretti mono in crema abbiamo tutte le cose per il viso quindi lì ci sono vari bronzer qui ci sono tutti i miei blush in crema vedete qua ci sono tutte terre e illuminanti là ci sono tutte ciprie qui invece tutti i blush sia della mulac wet and wild essence e varie marche qui ci sono tutti dei diciamo un sacco di creme colorate fondotinta e ci sono anche fondotinta più scuri per l'estate vedete vari campioncini di fondotinta qua invece ci sono tutte le mie palette più piccole wet and wild euda beauty mulac e così via qua ho delle ciglia finte e qui ho tutte le mie palette sia di sleek essence e make up revolution e abbiamo piastre arricciacapelli e chd e robe varie c'è un po' casino qui in questa cesta ho messo gli smalti che magari uso di meno e cioè uso sempre però uso meno come vedete qui ho messo un bel tappeto bianco e invece qui vedete ho messo un tappeto fucsia preso da Ikea e questa è l'altra postazione make up quindi qua diciamo che io mi siedo per truccarmi a volte prendo quella sedia lì e la metto qua avanti la specchiera sia il mobile e cioè la cassettiera diciamo che le mensole le ho prese tutte da Ikea e le trovate ancora costano relativamente poco vedete una composizione di rossetti questa me l'ha fatta il mio fidanzato e diciamo che lui è molto preciso e allora mi ha voluto aiutare a fare questa composizione sul rosa e dorato quindi abbiamo messo varie cose di Uta Beauty vari rossettini di Clio Makeup Mulac Anastasia Beverly Hills ce ne sono davvero tanti anche della Nabla questa è una candela che mi è stata regalata da mia sorella e trovo che sia molto carina qui invece sul ripiano passo abbiamo messo questa palette di Nabla quest'altra di Mulac una candela rosa e kit di Marc Jacobs e lì dietro c'è una palette di Urban Decay molto bella quindi diciamo che sono esteticamente molto belle le ho volute mettere qui su questo vasetto con delle matite labbra che uso più spesso vedete spugnette matite labbra cestino ho messo tutte cose che voglio utilizzare quindi aspettate questa deve stare qua ho messo vari rossetti vari mascara che voglio utilizzare anche vari ombretti sono tutte cose da utilizzare e magari anche finire qua ho messo la palette fetish di Kat Von D che è adorabile questa palette io la amo veramente tanto ha dei colori molto belli al suo interno vedete poi qui abbiamo vari pennelli e varie matite occhi in questo vasetto mentre qua ho tutto l'essenziale quindi magari ho messo cose che di solito uso di più quindi matite color labbra color marrone che io sono solita ad utilizzare poi ho messo varie tinte che uso di più e tutti i rossetti che mi piace utilizzare più spesso nude qui ci sono vari fondotinta che utilizzo di più vedete vari fondotinta primer ciprie setting spray e poi in questi cassettini ci sono altri ombretti vedete altri ombretti anche qui diciamo che ho messo tutti i miei ombretti in crema che magari utilizzo di più tutte le mini size e vari campioncini di profumo o blush sono varie palette quindi abbiamo un sacco di naked 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 too faced anche qui sotto ce ne sono altre qua ci sta la palette di clio cadmondia altre too faced qui abbiamo delle naked piccoline e poi abbiamo tutte le anastasia beverly heels che a me me ne mancano ancora altre ma va bene così quindi qui ho il resto delle palette che io amo e utilizzo maggiormente nell'altro cassetto ho tutte le cose per unghie quindi dischetti per unghie forbicine top coat li mette acidone e poi ho tutte le mie pochette trucco in questo cassetto quelle due mensole lì sempre prese da Ikea poi c'è questa scrivania presa da Ikea e la sedia anche ovviamente presa da Ikea e qui ho il mio computer e qua ho tutte le mie cose questa è la mia pochette che io mi porto sempre in giro è una palette di Mulac che io utilizzo tantissimo infatti come vedete tutta rotta cioè tutta consumata perché proprio mi piace la mia preferita poi ho un'altra palette di NABLA e qui dentro ho tutto il make up da battaglia che adoro e mi piace e mi porto sempre in giro qui come vedete ho i tutti gli smalti che sono solita ad utilizzare di più quindi partendo da Kiko Wicon Essence Astra ho davvero un sacco di smalti della Debbie quindi qua ho il mio kit per le unghie che uso maggiormente i profumi mi piacciono poi lì ho una pianta grassa una candela e questa composizione che mi ha fatto il mio fidanzato anche con vari rossetti della MAC che amo di più e che utilizzo e varie tinte barbari urban decay hulac jeffrey star e invece quassù ho la mia mensola dei ricordi quindi la foto con i miei nonni e le orecchie di minni prese a parigi un quadretto di legno fatto da me e vari pupazzetti vari ciao ciao ciao